bene buonasera a tutti benvenuti io mi chiamo martino silvestri e nella vita mi occupo di sviluppo di applicazioni web e di gestionali per aziende anche perché no anche di interfacce quando capita di accessibilità faccio parte dell'associazione digital dreamers che è un'associazione che stasera in collaborazione con conoscere linux ha organizzato questo questo incontro e lavoro per un'azienda che si chiama pitec tra l'altro mi rincresce mi sono dimenticato di togliere il logo dalle slide quindi insomma presente lì non volevo è stato assolutamente casuale dunque stasera parleremo di accessibilità web e adesso non so qualcuno di voi ha dimestichezza con il concetto di accessibilità web sono qualcuno da casa qualcuno di voi ha dimestichezza col concetto di web è una domanda lecita insomma comunque l'accessibilità web come diciamo il termine stesso suggerisce è tutta quella serie di pratiche che si occupano di definire e delineare quelle che sono delle buone prassi da seguire per creare strumenti contenuti accessibili e quindi cosa vuol dire accessibili? vuol dire che qualsiasi persona indifferentemente dalle possibili disabilità che può avere deve poter fruire di contenuti che vengono mostrati sul web vengono osserviti sul web o usare strumenti che permettono anche di creare contenuti io nello specifico mi occupo magari di più di creazione di contenuti accessibili perché diciamo sono state definite una serie di linee guida che dopo vedremo più nello specifico che si occupano di vari settori dell'accessibilità e io mi occupo di più di contenuti perché appunto sono un programmatore quindi tendenzialmente l'accessibilità la vedo dal punto di vista di scrittura di codice accessibile poi in verità capita anche in altre occasioni che invece magari debba anche creare qualche contenuto testuale accessibile che dopo andremo a vedere più nel dettaglio di cosa stiamo parlando stasera quello che volevo fare era tendenzialmente intanto definire un po' appunto che cos'è l'accessibilità web darvi alcune indicazioni su come orientarvi perché onestamente io non sono un esperto è capitato quello che mi interessasse diciamo di questo argomento e onestamente nel momento in cui mi sono approcciato al tema quello le informazioni che ho trovato le ho trovate piuttosto confuse e poco chiare il che ha comportato che mi mettessi lì e spulciassi tante risorse che magari non sono sempre organizzate in modo appunto accessibile e quindi insomma è stato un lavoro comunque che ha comportato un certo tipo di attenzione e di analisi di quelle che sono le innumerevoli risorse ma che spesso mancano un po' di chiarezza anche per quello che riguarda magari aspetti più legali mi sembra eccessivo magari diciamo burocratici o nella definizione di alcuni appunto criteri rispetto all'accessibilità perché ci sono degli enti che poi dopo andremo un attimo a vedere che si sono occupati di definire delle linee guida adesso intanto cominciamo a spulciare le slide qua ho messo una serie di citazioni piacione che però hanno il pregio secondo me di fare il punto circa quella che secondo me deve essere secondo me e anche secondo fonti ben più autorevoli di me deve essere l'approccio nel momento in cui si vuole creare contenuti accessibili e strumenti accessibili nella fattispecie qua si dice che il web è universale deve essere deve essere usato cioè tutti devono avere accesso al web a dispetto della disabilità di ciascuno questo è invece un aspetto relativo alla checklist che è molto diffuso soprattutto nell'ambito magari dello sviluppo proprio di codice ed è secondo me un approccio un po' sbagliato perché spesso quello che si fa nel momento in cui si vogliono creare dei contenuti web è seguire una serie di aspetti che si sa che devono essere rispettati e quindi nel momento in cui soddisfo determinate richieste posso dire di aver creato un contenuto accessibile in soldoni se proprio vogliamo essere grevi può essere un approccio però credo che sia molto più efficace rendersi conto di quelle che possono essere le difficoltà di alcune persone e poi in verità non è neanche necessario che ci siano difficoltà perché poi dopo vedremo che tante cose che sono legate al concetto di accessibilità in verità sono aspetti dei quali fruiscono persone che possiamo identificare come non affette da disabilità e quindi il fatto di ragionare più in termini di esperienza dell'utente è insomma secondo me un approccio molto più intanto gratificante anche per chi crea i contenuti e poi in generale più efficace saranno diversi acronimi e abbreviazioni perché ovviamente diciamo chi è andato a definire dei principi di massimo e delle linee guida viene dal mondo anglofono e insomma nell'ambito dell'accessibilità si sprecano acronimi e cose di questo tipo se per caso vi capita di navigare online e di trovare una dicitura A11Y sta per accessibility che è semplicemente la prima lettera, il numero di lettere che costituisce l'intera parola e l'ultima lettera io appunto come vi dicevo mi occupo di sviluppo web e di gestionali di software e così via quindi mi occupo appunto di più di contenuti e anche di codice per quanto magari insomma abbia anche un po' affrontato quello che riguarda l'accessibilità in altri ambiti cioè per esempio quello di creazione di contenuti, di testi, di cose di questo tipo questo è un po' quello che insomma vi stavo dicendo l'accessibilità web significa che i siti web, gli strumenti, le tecnologie sono progettate e sviluppate in modo da permettere a chiunque di essere usate in modo specifico le persone devono poter percepire, comprendere, navigare, interagire sulla rete e contribuire allo sviluppo della rete perché come vi dicevo se l'accessibilità spesso si affronta nell'ambito della creazione di contenuti ci sono altri aspetti che sono sempre relativi all'accessibilità legati invece al creare strumenti che permettano alle persone di creare contenuti cioè una persona, qualsiasi disabilità essa abbia deve poter usare degli strumenti per creare dei contenuti creare dei contenuti può voler dire anche semplicemente non so, viene un esempio un po' macabro fare un post su Facebook per dire cioè quello comunque l'interfaccia che permette a un utente di aggiungere un post al suo diario su Facebook è un qualcosa che deve essere accessibile perché se no appunto non può farlo qua ho riportato una serie di esempi di strumenti che non nascono non nascono con l'idea magari principale di o meglio in verità non tutti, qualcuno sì alcuni però non nascono con l'idea di facilitare la vita alle persone con disabilità ma sono invenzioni, creazioni che vengono sfruttate comunque da tutti indifferentemente dal proprio stato e che magari utilizziamo anche tutti i giorni e giovano particolarmente a tutti il primo esempio è la rampa del marciapiede che qualcuno mi correggerà se sbaglio direi che in inglese si chiami carb cut in italiano onestamente non so come si traduca io la chiamo tipo rampa del marciapiede che effettivamente nasce con la finalità di permettere alle persone per esempio che si muovono su una sedia a rotelle di salire e scendere dal marciapiede ma che oggigiorno o meglio nella quotidianità vengono usate dalle persone più disparate cioè dal genitore con la carrozzina con il bimbo a quello con il carrello della spesa o quello con il trolley che si porta dietro e così via Bell per esempio Alexander quello che ha brevettato il telefono non ha inventato il telefono allo scopo di o meglio i suoi studi legati al suono non nascono con la finalità di inventare il telefono ma derivano dal fatto che la madre era sorda la moglie era sorda sicché si è messo a fare tutta una serie di studi nell'ambito dell'acustica e insomma il caso vuole che poi aveva creato anche il telefono Pellegrino Tour invece è un caso uno strano è l'inventore della macchina da scrivere e nella fattispecie ha inventato la macchina da scrivere perché la sorella era cieca era non vedente e per permettere alla stessa di scrivere cosa che altrimenti avrebbe fatto fatica a fare ha creato la macchina da scrivere questo per dire appunto che in generale tanti strumenti che magari nascono proprio squisitamente con la finalità di di permettere a persone con disabilità di fare certe cose non vengono usati solo da queste o anche strumenti che invece non nascono con quella finalità poi vanno a giovare a persone con disabilità vabbè qua c'era un video ma abbiamo deciso che i video non si fanno vedere perché poi quelli da remoto non sentono l'audio quindi no in verità non era così significativo qua c'era una carrellata di anzi no scusate questo qua era insomma un esempio così grazioso in verità forse potrei anche riprodurlo perché qua l'audio non è molto significativo però vabbè magari è arrivato non lo so vabbè insomma ma in verità comunque non è particolarmente particolarmente no era semplicemente un video grazioso tra virgolette nel quale o meglio che da da pensare nel quale viene mostrato un mondo a misura di disabile piuttosto che a misura di passatevi di termine perdonatemi normodotato quindi con tutta una serie di per esempio non so il il cassiere che parla con il linguaggio dei segni e però magari una persona che non conosce il linguaggio dei segni non lo conosce o strutture architettoniche fatte a misura di persona che va in giro sulla carrozzina e quindi una persona che cammina su due gambe fa fatica a percorrere questo per dare l'idea delle difficoltà che può incontrare una persona con disabilità nella vita quotidiana questo per me è particolarmente significativo invece perché capita capita spesso di di vedere la creazione di contenuti accessibili come un lavoro in più che quasi costa fatica che insomma chi me l'ha fatto fare ha perché devo fare sta cosa accessibile e invece approcciarsi in un'ottica di gli strumenti per rendere i contenuti accessibili esistono se io creo dei contenuti accessibili e utilizzo bene le tecnologie creo dei contenuti accessibili ai quali tutti possono fruire secondo me insomma è interessante ecco allora qua c'è una carrellata di onestamente anche un po' insomma gratuita di tutte quelle che possono essere le disabilità fisiche visive uditive cognitive del linguaggio perché magari spesso si pensa all'accessibilità come un qualcosa di rivolto magari al non vedente o al non udente o cose di questo tipo in verità ci sono tutta una serie di disabilità meno diciamo vistose passatemi il termine che comunque sono da tenere in considerazione nel momento in cui si vuole creare un contenuto accessibile appunto vi dicevo c'è una sfilza di tutti quelli che possono essere case di disabilità fisiche questo onestamente lo salterei però ci sono gli esempi di barrile digitali che possono possono insomma farci riflettere su come è opportuno creare dei contenuti e quindi abbiamo i siti web browser web strumenti di creazione che non offrono un accesso completo da tastiera dopo per esempio sarà anche un'operazione che faremo con gli dispositivi che avete a disposizione limite di tempo non sufficiente per rispondere o completare un compito come la compilazione di un form per esempio ci sono persone ci sono determinati form in alcuni contesti che per le più disparate ragioni impostano un timer esaurito il quale si viene diciamo reindirizzati o meglio non è più possibile compilare il form ci sono persone magari per disabilità fisiche dopo dire anche disabilità cognitive hanno bisogno di più tempo per compilare un form o per effettuare delle operazioni che normalmente statisticamente vengono effettuate in un certo periodo di tempo e paroli compresi di link con immagini testuali che non hanno un testo alternativo equivalente mancanza di segni di orientamento visuali e non visuali di aiuti per la navigazione e pagine mal strutturate questo è un po' un aspetto generale indifferentemente dalla disabilità meccanismi di navigazione e funzionalità inconsistenti imprevedibili ed eccessivamente complessi anche questo è abbastanza generico dopo lo vedremo anche più magari nello specifico e beh le disabilità visive quali barriere digitali possono riscontrare le persone con disabilità visive immagini controlli e altri elementi strutturati senza un testo alternativo equivalente qua si parla per lo più magari di persone non vedenti in verità vedremo che anche persone ipovedenti diciamo etichetta che racchiude tutta una serie di disturbi possono avere problemi di varia natura per esempio se un contenuto un contenuto testuale ha un contrasto che non è sufficiente meglio che non rispetta determinati criteri possono far fatica a leggere se il contenuto testuale è scritto piccolo se piccola curiosità che non so quando ho letto tra l'altro mi è abbastanza stupito per esempio il classico testo che è così piacevole alla vista giustificato è un qualcosa che può creare difficoltà a persone con disturbi specifici dell'apprendimento per dire perché gli spazi irregolari tra una parola e l'altra possono creare difficoltà nella lettura quindi insomma ci sono innumerevoli considerazioni da fare nel momento in cui si creano di verità innumerevoli sono comunque relativamente contenute però insomma ci sono diverse cose da tenere in considerazione per esempio contenuti video o in generale immagini comunque che non hanno un test alternativo che appunto può spiegare all'utente non vedente o ipovedente che cosa sta succedendo e così via parla di contrasti di cose di questo tipo disabilità uditive la disabilità uditiva per certi versi tendenzialmente anche nel momento in cui magari ci sono cioè finché si è affetti solo da quello magari nel momento in cui ci sono permette un accesso più facilitato rispetto ad altre disabilità perché in soldoni poi quello che succede è appunto magari non si può ascoltare un audio o non si può ascoltare l'audio di un video anche in questo caso è opportuno che questi contenuti multimediali siano mostrati con con la possibilità di attivare disattivare sottotitoli in realtà caption sarebbero più nello specifico e cose di questo tipo o se no casi magari un po' particolari per esempio servizi web questo potrebbe essere un ostacolo che prevedono magari il contatto per esempio solo telefonico o cose di questo tipo insomma disabilità cognitive ne abbiamo un po' accennato anche per esempio nell'ambito dei disturbi specifici dell'apprendimento e di difficoltà che possono che possono creare appunto disagio nella nella fruizione dei contenuti in generale qua ci sono una serie di aspetti che riguardano la navigabilità o meglio la fruizione dei contenuti da parte di tutti per esempio a chi non è capitato di andare su qualche su un qualche sito della pubblica amministrazione e di insomma trovarsi in difficoltà per cercare di capire quella che magari doveva essere una procedura relativamente semplice da svolgere e invece non si trovano i contenuti non si capisce che cosa si debba fare e cose di questo tipo questo magari è enfatizzato se si soffre di determinati disturbi cognitivi in generale poi ci sono aspetti legati proprio ai contenuti testuali oltre che alla navigabilità e all'interfaccia per esempio nel momento in cui si creano dei contenuti testuali anche questi è opportuno che rispondano a una serie di criteri di accessibilità un esempio sciocco se se io per esempio non so ho un simpatico blog nel quale nel quale pubblico delle ricette di cucina e utilizzo non so dei termini scientifici per identificare i componenti che devo utilizzare per creare una ricetta probabilmente non sto facendo la cosa giusta perché contestualmente a quella che sarà l'utenza ovviamente bisogna tenere in considerazione i vocaboli che si usano e il modo in cui si esprimono i concetti che si vogliono esprimere e quindi è inevitabile che in determinati contesti si usino delle terminologie tecniche però ovviamente deve essere tutto pensato contestualmente a quella che sarà poi l'utenza che altro andiamo avanti ok in verità disturbi del linguaggio magari sono anche quelli che dato che solitamente si fruisce tra virgolette di contenuti web non è sempre così però insomma capita spesso disturbi del linguaggio magari non comporta che si abbiano particolari difficoltà per certi versi insomma a fruire di alcuni contenuti ma avanti allora sono questi due concetti piuttosto significativi nell'ambito dell'accessibilità che sono tecnologie assistive e strategie adattive sono due termini che in maniera un po' pomposa e un po' un po' tecnica identificano in verità strumenti e soluzioni di uso comune le tecnologie assistive semplicemente sono leggiamo no le tecnologie assistive semplicemente sono gli strumenti spesso in verità non è vero sono gli strumenti che ci permettono di interagire sul web utilizzo interagire per per identificare sia magari un'interazione passiva che attiva quindi insomma diciamo sia dare un input sul web che fruire di un output di un contenuto diciamo spesso nel momento in cui nell'ambito dell'accessibilità si parla di tecnologie assistive si tende a pensare a strumenti molto specifici per chi soffre di determinati disturbi per esempio un caso classico gli screen reader lo screen reader che cos'è? lo screen reader è un programma che legge ad alta voce il contenuto presente sullo schermo strumento che anzi no ci torniamo dopo su questa cosa o se no che altro ci sono per esempio non so persone tetraplegiche che non muovono nessun arto e che comunque hanno la possibilità di navigare sul web e fruire dei contenuti che il web offre con per esempio soluzioni piuttosto piuttosto inusuali se volete per esempio ci sono strumenti c'è un strumento che si chiama sip and puff cioè aspira ed espira che è uno strumento che può essere usato per diciamo dare un input al computer quindi sono appunto tetraplegiche che hanno questa cannucetta e quello che fanno è ispirare ed ispirare per dare un input al computer ci sono persone che magari non hanno gli arti superiori e usano delle bacchette per premere i tasti della tastiera ci sono tutta una serie di tecnologie assistive molto magari specifiche ci sono per esempio i braille display che sono dei dispositivi che si collegano al computer e con dei denti di metallo che vanno a muoversi e a mostrare diciamo dei contenuti testuali scritti in braille a solitamente magari un obbedente perché sono più loro che conoscono il braille e cose di questo tipo le strategie adattive invece sono tutte quelle soluzioni che si adottano o meglio che le tecnologie assistive offrono e che gli utenti utilizzano per per fruire ancora più facilmente diciamo dei contenuti un esempio detta così non è molto chiara onestamente un esempio di strategia adattiva è il browser non so se lo sapete probabilmente sì il browser permette cioè tutti i browser moderni permettono di modificare le dimensioni dei caratteri e quindi si possono aumentare o diminuire quello è una strategia adattiva o che altro tecnologie assistive vi dicevo spesso qua c'è una definizione un po' più formale hardware e software che permettono alle persone con disabilità di interagire e approcciarsi nel mondo digitale mezza verità perché in verità ci sono tante tecnologie assistive che in verità non sono proprio dedicate a persone con disabilità e è così brillante da da fornirmi un esempio di tecnologia assistiva che non sia diciamo così lampante e ovvia come può essere per esempio uno screen reader sono anche oggetti proprio di uso quotidiano sì cioè sì per certi versi perché in verità anche una tastiera è una tecnologia assistiva cioè la tastiera è uno strumento che permette di una tastiera del computer sto dicendo permette a una persona di in questo caso fruire insomma interagire con una macchina quindi volendo anche quella possiamo concepirla come tecnologia assistiva ci sta però comunque è una tecnologia assistiva perché senza quella non si potrebbe non 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 un esempio piuttosto piuttosto sciocco se volete di tecnologia assistiva possono essere anche gli occhiali occhiali che ci permettono di o meglio che permettono a persone con disturbi alla vista di avere una una visione più chiara di quello che stanno guardando ecco anche questo è particolarmente significativo secondo me perché spesso si pensa al fatto che non so lo screen reader viene usato dal non vedente e il braille display viene usato da anche quello dal non vedente per esempio mi dispiace non c'è una terminologia italiana che identifichi che faccia questo distingo i closed caption cioè quelli che genericamente magari in italiano vengono detti ah i sottotitoli in verità hanno un'accezione un po' diversa nel mondo anglofono dove c'è una distinzione invece più netta tra sottotitoli e closed caption cioè subtitles e closed caption cioè i sottotitoli genericamente sono contenuti testuali che vengono mostrati sotto un video e vengono mostrati per esempio non so vada a vedermi il film polacco alla sala truffo e quello che succede è che ci sono i sottotitoli questi sottotitoli semplicemente riportano il contenuto testuale o meglio la traduzione in chissà quale lingua di quello che dicono i personaggi però non c'è un supporto rispetto a contenuti audio al di fuori di quelli testuali i closed caption invece sono più specifici perché oltre a mostrare il contenuto testuale del parlato proprio aggiungono informazioni ulteriori quindi per esempio suoni di fondo magari l'indicazione di chi sta parlando il classico tipo non so musica inquietante o cose di questo tipo insomma ci sono molte più informazioni quindi ci sono queste tecnologie assistive che appunto no vi stavo dicendo le persone in generale usano al di fuori della disabilità o meno usano comunque combinazioni di questi strumenti per esempio io dato che non ho un ottimo rapporto con il mouse preferisco usare la tastiera e quindi magari mi capita spesso di navigare sul web usando la tastiera dopo vi dicevo sarà una cosa che proverete a fare anche voi probabilmente non è stata ideata questa modalità di navigazione o meglio forse anche sì però magari non è stata squisitamente pensata per persone con difficoltà motorie la navigazione da tastiera io comunque la uso per esempio un po' di tempo fa ho attivato lo screen reader sul cellulare perché insomma intanto volevo provare le esperienze insomma se vi capita non so più o meno su tutti i sistemi operativi principali dei smartphone moderni c'è già integrato magari il software di screen reading se vi capita provatelo insomma sono cose affascinanti e ah beh vabbè qua c'è anche qua un gran listone di quelle che sono le strategie le tecnologie assistive le strategie adattive più mirate per esempio alle varie disabilità sono anche strumenti che onestamente fino a qualche tempo fa non conoscevo insomma che se vi capita anche di cercare online sono 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 piuttosto interessanti quindi per esempio disabilità fisiche sono tastiere mouse ergonomici o con design speciali ci sono per esempio persone che hanno difficoltà nella micromobilità e quindi questo comporta che anche per esempio nella creazione di contenuti di interfacce sia opportuno non so per esempio creare creare contenuti sui quali un utente deve cliccare con determinate dimensioni così fino a casi particolari come il puntatore alla testa la bacchetta da bocca e così via sono tutta una serie di strumenti interessanti disabilità visive ingrandire appunto la disabilità visiva non è solo non è solo la cecità c'è anche l'ipovedenza e così via e quindi ingrandire le dimensioni del testo e delle immagini personalizzare le impostazioni di fonte colori spaziature ascolto della sintesi vocale del contenuto e così via giabilità uditive vi dicevo trascrizioni e caption qua l'ho tradotto così appunto per la motivazione che vi dicevo poi ci sono altre cose un po' generiche ah ecco mi stavo dicendo prima screen reader la maggior parte delle persone magari l'associa al non vedente l'utilizzo dello screen reader dato che siamo tutti diversi e ciascuno di noi apprende anche in maniera diversa come ben sappiamo come ben ci ha insegnato diciamo anche la scuola negli ultimi 30 anni tipo 20 30 gli screen reader non sono solo usati da persone non vedenti ma per esempio anche in questo caso persone con disturbi specifici dell'apprendimento prediligono l'utilizzo dello screen reader perché da un punto di vista proprio di apprendimento riesce loro più facile capire dei contenuti se una persona glieli legge o anche insomma un software piuttosto che nella lettura mi dispiace trascurare le persone con disabilità del linguaggio ma che in generale è un tipo di disabilità che compromette in maniera in maniera minore rispetto ad altre disabilità l'esperienza degli utenti ok adesso non so che ora stiamo facendo tardino quindi vi direi di fare una rapida carrellata di questi acronimi un po' molesti semplicemente perché magari ad alcuni non interessano in alcun modo magari ad altri possono interessare di più questi sono WCAG ATAG e UAG sono intanto notare questo suffisso comune a tutti tra gli acronimi AG AG sta per Accessibility Guidelines cioè linee guida di accessibilità queste linee guida sono state definite da questa UAI W-A-I che sta per Web Accessibility Initiative questa UAI è un organo che fa parte della celeberrima famosissima W3C W3C che è WWW Consortium che è un ente internazionale mi viene da dire che si occupa di definire gli standard del web appunto questo 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 organo UAI che invece si occupa nello specifico di definire delle linee guida per quello che riguarda l'accessibilità vi dicevo il suffisso A-G è comune a mi rincresce Emanuela non ho l'audio del portatile acceso Emanuela dice lo smartphone fa anche da screen reader sì esatto sì sì assolutamente scusa Emanuela ma non ho gli occhi sulla chat mi sono perso vi dicevo abbiamo questo suffisso comune A-G mentre le due iniziali le due lettere iniziali di ciascuno di questi acronimi identifica un un ambito diverso nel quale nel quale le linee guida si vanno ad applicare io in quanto programmatore sviluppatore mi occupo di più di VCAG VCAG sta per Web Content Accessibility Guidelines VCAG riguarda tutte quelle persone che si occupano di creazione di contenuti il contenuto è un po' una grande scatola nella quale ci vanno a finire un sacco di cose ci vanno a finire proprio persone con le competenze più disparate perché se da una parte magari ci sono io che auspicabilmente quello che faccio è per creare contenuti accessibili nel mio lavoro quotidiano è scrivere del buon codice del codice accessibile dentro questa categoria di VCAG ci finiscono anche per esempio gli autori proprio che si occupano di scrivere dei contenuti testuali gli autori che o meglio i designer di interfacce quindi chi si occupa di disegnare e creare dell'interfaccia ci sono innumerevoli persone adesso poi guardiamo poi nello specifico anche gli altri qua appunto c'è una definizione un po' un po' un po' più formale informazioni quindi cioè i contenuti cosa si intende per contenuti le informazioni naturali come testo immagini e suoni codice appunto quindi legato proprio allo sviluppo codice markup che definiscono la struttura la presentazione e così via WCAG spiega come creare contenuti piacessibili per persone con disabilità in verità poi generale qua ci sono appunto le figure che sono coinvolte in questa WCAG quindi gli sviluppatori di contenuti web più nello specifico come sviluppatori di codice gli autori di contenuti e appunto insomma figure anche un po' marginale se volete chi si occupa proprio di valutare il l'accessibilità dei contenuti ATAG invece riguarda come vi dicevo prima in verità vi ho fatto un esempio calzante prima gli authoring tool gli authoring tool sono semplicemente gli strumenti per creare contenuti e se da una parte magari se si pensa a una definizione di questo tipo si riflette magari o meglio può venire in mente per esempio anche un software di editing di testo Word o se vogliamo un libro office o cose di questo tipo dall'altro ci sono anche chi si occupa di sviluppare strumenti per la creazione di contenuti cioè per esempio appunto anche il fatto di viene un esempio sciocco calzante in verità WordPress diciamo lo strumento per eccellenza che chiunque dalle persone più o meno competenti sulle tecnologie digitali utilizzano per creare il proprio sito web inserire contenuti e cose di questo tipo gli authoring tool sono tutti questi strumenti che permettono alle persone di creare contenuti a chi è rivolto a TAG authoring tool per la creazione di pagine web software per generare siti web ad esempio CMS appunto come si dice a WordPress software che convertono contenuti testuali in contenuti web e così via UAG invece sono linee guida rivolte a una una mi viene da dire piccola percentuale di persone cioè sono persone che si occupano di creazioni di user agent user agent tendenzialmente se si parla di web si pensa spesso comunque al browser in generale parliamo di quei di quegli strumenti che ci permettono di collegarci alla rete e interagirci nello specifico quindi magari un po' generalizzando è qualcosa che riguarda chi sviluppa i web browser chi sviluppa le estensioni per i web browser dopo tra l'altro vi costringerò a installare un'estensione per i web browser per fare un po' di test e così via prima di fare le attività vi voglio mostrare questa cosa allora adesso non so quanto magari vi importi anche compatibilmente a quello che fate nella vita o al vostro interesse giusto così un'indicazione un po' tecnica allora questa è una pagina che secondo me non è particolarmente accessibile per quanto sia proprio di Y quindi di Web Accessibility Initiative a loro discolpa mi viene da dire c'è un po' un aspetto cioè meglio dovevano mostrare un sacco di contenuti di funzionalità di strumenti di pulsanti tutti insieme questa è una pagina che può tornare molto utile anche al discorso della checklist da soddisfare per creare contenuti eccessibili nel momento in cui si hanno dei contenuti per il web e diciamo si vogliono vedere in maniera comunque raggruppata tutti quelli che sono le linee guida relative a un determinato contenuto che si vuole creare in generale se cercate sul web WI Quick Reference vi trovate questo link può essere interessante perché ci sono tutta una serie di filtri per selezionare diciamo il contenuto relativo al quale si vogliono visualizzare le linee guida e adesso facciamo una roba tipo un esempio molto rapido diciamo che io voglio creare del testo e qua ci sono tutti i vari diciamo contenuti possibili immaginabili io dico voglio creare del testo queste linee guida adesso sono state proprio filtrate sul contenuto test quelli che vengono chiamati quattro principi fondamentali di queste linee guida cioè queste linee guida sono state realizzate, stilate con questi principi in testa e nella fattispecie dato che appunto ci piacciono sempre gli acronimi vengono solitamente identificate come POUR cioè P-O-U-R ciascuna di queste lettere ovviamente identifica una linea guida scusate un principio di accessibilità il primo principio è perceivable cioè percettibile questo è abbastanza ovvio è il principio che dice il contenuto deve essere percepibile dalle persone indifferentemente da percepiscono auspicabilmente magari non è sempre possibile però insomma tendenzialmente si cerca di il secondo è operable cioè le persone devono poter interagire con i contenuti o con anche per esempio non so, form media player che mi mostro un filmato e cose di questo tipo devono poterlo fare quindi operabile mostrano contenuti testuali le interfacce devono essere chiare e fruibili non devono non devono confondere l'utente che sta usando l'interfaccia un esempio sciocco se io vado sull'interfaccia e su una pagina web non lo so mi trovo il pulsante tipo torno alla pagina precedente che è una volta in alto a sinistra e poi dopo in basso a destra questa è una scelta da un punto di vista di design dell'interfaccia piuttosto infelice perché perché non si fa e poi vabbè poi dopo c'è un aspetto invece più legato alla tecnologia proprio che è robust cioè che è in generale il creare contenuti creare contenuti questo appunto più legato più legato alla scrittura del codice che siano compatibili con le tecnologie odierne in un'ottica anche di tecnologie future e questo insomma secondo me può essere interessante contestualmente insomma quello che dovete dovete fare poi adesso dopo questo dopo questi 45 minuti di spiegone secondo me potrebbe essere interessante il fatto di di provare voi stessi andando su una pagina web e controllare se questa è accessibile io adesso vi ho rintronato con discorso sull'accessibilità però poi magari non vi ho detto nello specifico per certi versi quelli che sono alcuni aspetti che può essere può essere importante tenere in considerazione ci sono alcuni alcuni controlli che chiunque anche senza avere particolari conoscenze tecniche può fare per diciamo rendersi conto se una pagina web è accessibile o meno in generale comunque l'esperienza stessa di andare su una pagina web è comunque un'esperienza di controllo di accessibilità della stessa perché appunto io magari magari sono vecchio però vado sulla pagina web della pubblica amministrazione e non so dove devo andare per fare una cosa quello magari mi suggerisce che da un punto di vista di design del layout dell'interfaccia forse non sono state fatte le scelte migliori sono alcuni aspetti che però insomma è interessante tenere in considerazione e che adesso insomma ci andiamo a vedere allora intanto intanto allora per ci segue da remoto incollo qua questo link link al quale chiederei di andare anche qui è qua il link nella fattispecie ve l'ho detto è così il link nella fattispecie ve lo scrivo qua sullo schermo devo usare il computer della sala le passano sono scritte tutta la testa allora perché è qua perché è qua perché è qua allora il link è quello sicuramente posso anche ingrandirvelo ulteriormente no più di così non si può sì io ci sta allora teoricamente anche quelli da casa adesso vedono questa pagina magari zoom un po' perché è un po' piccino allora questa sono questi sono una serie di controlli che anche chi magari non ha particolare dimestichezza con il con i linguaggi del web può effettuare secondo me in generale anche se chiunque tra virgolette può effettuarli ci sono alcuni strumenti che possono facilitare questo genere di controllo uno uno di questi è uno strumento che è integrato in tutti i browser moderni che è il developer tool per aprire il developer tool quello che fate è premere il tasto F12 di prassi poi anche da casa se per caso avete qualche tipo di problematiche magari segnalatemelo o se no se proprio ve la vedete brutta potete provare con il click destro ispeziona il sito era era questo era lui se vuoi te l'ho detto allora www.v3 .org slash w-a-y cioè w-a-i slash demos slash b-a-d ok se per caso da casa avete qualche tipo di problematica segnalatemelo comunque rapidamente lo strumento da sviluppatori è uno strumento che vi permette di vedere quello che dicono imprecisione ma ne sono consapevole sì che non vogliatemene vi permette di vedere il codice html che è il codice che definisce la struttura della pagina e vi permette di vedere tutta una serie di informazioni ulteriori che adesso non ci interessano particolarmente giusto così per esempio ve lo mostro anch'io qua aprirò lo strumento di sviluppo e adesso io utilizzo firefox tutti comunque i browser moderni che usiate edge o chrome o chrome e altri insomma sono dotati di questo strumento buon bene buon bene anche chrome condivisibile però allora adesso magari vi zoomo anche un po' qua il contenuto dello strumento di sviluppo intanto al di fuori del no ok questo diciamo ci interesserà particolarmente magari per alcuni alcuni controlli che dobbiamo fare forse dopo intanto quello che potreste fare è diciamo che apro anche il link così cominciamo a vederli insieme allora nella pagina nella quale siete aspettate ad aprire lo strumento di sviluppo che non serve subito a una certa trovate demo contents e il primo link che avete è home page e ci clicco sopra adesso è zoomatissimo quindi è un po' casino diciamo così ingrandisco un po' qua il contenuto riduco un po' questa finestrella qua e allora per prima cosa se vedete auspicabilmente è così a sinistra avete una struttura diciamo ad albero con in cima c'è scritto html poi c'è scritto head poi c'è scritto body e così via se voi aprite facendo tipo doppio clic o premendo tipo con la freccina a destra premete e aprite questo tag si chiama head tra le varie cose trovate un tag title questo tag permette di mostrare un titolo sul browser in cima nella fattispecie io adesso ho due tab aperte in alto nel browser e quindi c'è scritto welcome to city lights in verità questo non è neanche un titolo inaccessibile questo qua è un sito web che diciamo offerto da v3c appositamente pensato per mostrare a chi si interessa di accessibilità cosa non bisogna fare in verità andando a monte questo sito web è scritto ancora in tipo html4 quindi sono anche problemi un po' più rilevanti però insomma adesso siamo al 5 giusto così per notizia però diciamo che appositamente questo sito offre due versioni delle stesse pagine una versione non accessibile e una versione inaccessibile quindi per prima cosa secondo la checklist o meglio i diciamo semplici passaggi per controllare che una pagina web sia accessibile c'è il titolo di una pagina ovviamente se vi dico solo il titolo di una pagina voi mi dite boh qua c'è il titolo della pagina c'è scritto sopra benissimo titolo di una pagina e tra l'altro se proprio vogliamo dirla tutta non è neanche pessimo questo page title poi dice semplicemente benvenuti a city lights che dovrebbe essere appunto il sito il nome del sito quindi insomma non è un title terribile in generale quando si controlla il titolo di una pagina web cosa che appunto potete fare o ispezionando il codice o vedendo in alto nel browser cosa viene riportato quello che bisogna tenere in considerazione è che il titolo deve essere significativo quindi è importante scriverci qualcosa di sensato cioè se sono sulla home page di questo di questo sito city lights ci sta che sia benvenuto in city lights una cosa una cosa per esempio che capita spesso di vedere e che non bisogna fare è non so anche l'ordine nelle quali si mostrano le informazioni cioè a me come penso a tanti utenti capita di avere tante tab aperte e il fatto di avere l'informazione significativa nell'immediato è importante se io ho tante tab tante schede aperte del browser e tutte mi mettono mi riportano o solo il nome del sito o prima il nome del sito e poi magari una definizione più dettagliata non è non è un buon approccio all'accessibilità è più importante invece dire per esempio non so sono sulla home page questo ci sta sono magari su un form per effettuare l'iscrizione alla newsletter tipo nel titolo iscriviti alla newsletter di il nome del sito web questo perché il chi non ha chi non ha diciamo disturbi alla vista lo vede ed è contento ha maggior ragione se per esempio c'è una persona non vedente che si deve spostare tra tante tab tra tante schede aperte nel browser e non ha subito diciamo un'informazione significativa insomma ci perde del tempo in mente questo è per quello che riguarda un po' il concetto di titolo della pagina accessibile l'immagine è un discorso un po' articolato che non lo so dunque facciamo questo intanto per il testo e i titoli e le immagini magari ci guardiamo dopo perché secondo me se non avete troppa dimestichezza nell'ispezionare il contenuto la struttura di una pagina può essere un po' più articolato a farlo e ci sono strumenti estensioni del browser che permettono di impostare determinati filtri e visualizzare subito i contenuti presenti cosa che risulta molto più molto più comoda intanto una cosa che possiamo fare è l'interazione da tastiera interazione da tastiera vi dicevo prima siamo qua vi dicevo prima io stesso dato che sono pigro e non mi piace usare il mouse spesso quello che faccio è utilizzare magari la tastiera per spostarmi soprattutto per esempio penso ai moduli nei quali devo inserire dei dati o anche in generale magari nei link quello che potete fare è tornare indietro e andare perché è particolarmente significativa quindi tornare indietro a diciamo l'home page before and after demonstration e andare a survey page sempre nella sezione before mi raccomando perché la sezione after è teoricamente accessibile e potete cominciare a premere il tasto tab il tasto tab per chi non lo sapesse è il tasto che è posizionato a sinistra nella tastiera di forma rettangolare allungata e solitamente ha una freccia a due frecce orizzontali una che punta da una parte una che punta dall'altra questo tasto permette di tutti i browser moderni diciamo permette di spostarsi tra gli elementi interattivi della pagina tra gli elementi interattivi ci mettiamo i link ci mettiamo i campi per esempio dei moduli da inserire e così via adesso provate un attimo a su questa pagina cominciare a premere il tasto tab giusto così per informazione nel momento in cui voleste tornare indietro cioè se io sono su un elemento passo a tab passo al successivo voglio tornare al precedente devo tenere premuto shift cioè il tasto per farla maiuscola e contemporaneamente premere tab e questo mi permette di tornare all'elemento interattivo precedente adesso vi chiederei di provare a premere tab su questa pagina vedere come ci si sposta e insomma trarre trarre delle conclusioni che poi insomma mi esprimerete anche da casa ovviamente se volete esprimere dei pareri in tal senso siete benvenuti sempre in chat mi rincresce grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, questo è proprio un caso eclatante, cioè adesso non mi ricordo nello specifico che cosa succeda se provo a usare tab, però... Allora... Allora, qua ci sono sicuramente tutta una serie di problemi, quantomeno adesso ho il focus sui radio button. Non so. Allora... Pensavo peggio. Allora, per navigare su una pagina web deve avere un riscontro immediato ed evidente di dove si trova in quel momento. Cosa che se ovviamente andiamo sul sito di WAI, che sono i campioni di accessibilità, loro ovviamente fanno, no? A parte di scherzi, insomma... Questo sito è comunque molto accessibile e c'è un aspetto anche per esempio della navigazione che, insomma, è cristallino, che è il seguente. Cioè io premo tab e chiaramente si vede immediatamente dove sono, perché l'elemento sul quale ho, si dice in gioco tecnico, il focus è chiaramente evidenziato. C'è un bordo chiaro, c'è uno sfondo con un colore scuro rispetto agli elementi, diciamo, omologhi e così via. Quindi questo è sicuramente molto accessibile, cioè da un punto di vista visivo. C'è anche un aspetto che io amo profondamente, che non si vede molto in giro, però secondo me è molto, molto, molto interessante, che è questo primissimo link, cioè se io ricarico la pagina e premo tab, è il primo... ho ricaricato la pagina? Sì, mezzo, sì, ok. Il primo link nel quale mi imbatto è salta al contenuto principale. Questo perché non è sempre così, però capita che ci siano dei menu di navigazione con un quantitativo innumerevole di link. Questo mi permette di semplicemente dire, ah ok, sì, salta al contenuto principale, non mi interessa niente di tutti gli altri link, voglio solo leggere il contenuto della pagina, io premo invio e sono direttamente sul contenuto principale della pagina. E lì, scusa, posso portare ad esempio un sito piuttosto noto che, diciamo, manca un po' di questi aspetti di accessibilità? L'ANSA, cioè che io leggo quotidianamente, però dal punto di vista di navigabilità è un po' una ciofeca, secondo me. Cioè, se andiamo sul sito dell'ANSA, italiana... Vieni, andiamo a scherzare, in prima foto, io sono un pignolo e tutto, è stato l'ultimo sito che ho creato e la cosa del tab è carlata subito. Allora, se andate sul sito dell'ANSA e cominciate a premere tab, è proprio, c'è un'esperienza infernale, perché non c'è un link rapido per saltare al contenuto principale della pagina e l'unico riferimento in tante occasioni che avete è in basso a sinistra l'URL, cioè l'indirizzo web, diciamo, che viene mostrato, ma non avete alcun tipo di riscontro, se no dopo un po', e a una certa cominciamo ad avere i link sopra evidenziati. Il problema è che ci sono dei link con quello che viene chiamato un drop down, cioè dei link con dei contenuti aggiuntivi che magari normalmente non vengono mostrati, il problema è che hanno la possibilità di ricevere il focus anche quando questo menu non è aperto e quindi io comincio ad andare avanti e comincio ad avere un sacco di robe tipo sono a cronaca, politica, economia, regioni e comincio ad avere Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, però da un punto di vista visivo non ho riscontro alcuno, è una roba angosciante. Poi, se dobbiamo essere giusti col sito dell'ANSA, ha altri meriti, tipo comunque una struttura del codice dignitosa, dei contenuti testuali alternativi rispetto alle immagini che sono sensati e così via, però da un punto di vista di navigabilità da tastiera, diciamo, sono un po' carenti. Ora, adesso togliamo il sito dell'ANSA. Allora, in aula, giusto per, ripeto per chi è da remoto, mi chiedono che cosa intendo per codice accessibile. Allora, in primis, per codice accessibile si intende codice, per lo più intendo codice HTML, semanticamente significativo. Cioè, il codice HTML non si deve occupare dell'aspetto della pagina. Nel codice HTML si deve occupare di veicolare un significato ai suoi contenuti. Cioè, adesso non so chi abbia dimestichezza col codice HTML, però ci sono per esempio, giusto così anche, magari un esempio generale, questo qua in verità non è, ecco, questo è HTML. Questo è vero e proprio HTML. Ciascuno di questi elementi in rosso, in rosso, insomma, in questo, boh, magenta, non lo so, viene chiamato, è un tag. Ci sono dei tag di apertura e dei tag di chiusura. Se vedete, tipo, non so, riga 7, abbiamo un tag script, si chiama, di apertura, e poi dopo abbiamo, a riga 17, il tag script di chiusura. Ci sono tanti tag che hanno significati finalità diverse. Se andiamo a una certa, faccio un CTRL F, H1, abbiamo il tag H1. H1 identifica il titolo principale della pagina. I tag con la dicitura H numero vanno da 1 a 6, a seconda della rilevanza, diciamo, del titolo che si deve esprimere. L'H1 deve essere un tag che deve essere presente solo una volta nella pagina web. Se io, per esempio, lo metto due volte, non sto, diciamo, scrivendo del buon codice. Tutti gli altri H devono essere usati contestualmente a, diciamo, una relazione di precedenza, di priorità, di importanza, l'uno con l'altro. Con HTML5, vi stavo dicendo, per esempio, la pagina che stavamo analizzando, questa, oltre a non essere accessibile, è anche scritta in codice piuttosto antiquato, perché in HTML4. Con HTML5 sono stati introdotti tutta una serie di tag che, da un punto di vista, o meglio, arricchiscono molto, da un punto di vista semantico, il linguaggio. Per esempio, header, per esempio, article, per esempio main, per esempio footer, cioè tutta una serie di elementi che non hanno un significato di per loro da un punto di vista grafico, perché appunto l'HTML non si deve occupare dell'aspetto visivo. Poi è vero che se io faccio, per esempio, una semplice pagina web, allora metto un titolo H1 e allora questo è grande, è in grassetto, ma questo è il browser che decidi di mostrarlo così, perché il browser, tutti i browser di default hanno una serie di regole per, diciamo, modificare l'aspetto degli elementi. Però il modo in cui si scrive l'HTML appunto deve essere finalizzato a questo, cioè io potrei anche usare un tag di tipo header che identifica un'intestazione, che può essere o della pagina o anche, per esempio, di una sezione che può essere usata a se stante. Io potrei usarlo per, non so, metterci dentro un'immagine, perché? Perché sono una carogna, però non ha senso, cioè non bisogna farlo. Questo perché? Questo perché se l'aspetto visivo viene controllato da un altro linguaggio che è il CSS, l'aspetto semantico invece è squisitamente di HTML e se da un punto di vista visivo io posso realizzare due pagine identiche, una scritta con un HTML impeccabile e un'altra scritta con un HTML terribile, ma con del CSS che finge che alcuni elementi siano certe cose, che però in verità non sono. Una persona che accede alla pagina con uno screen reader vi maledice proprio, insomma, malamente. Perché? Perché lo screen reader quello che fa nel momento in cui accedete a una pagina vi permette di navigare in vari modi, vi permette di, per esempio, controllare tutte quelle che sono le liste, le liste di elementi nella pagina, vi permette di muovervi attraverso gli head, gli heading, diciamo, c'è questi tag H1, H2 e così via, e quindi vi dice, ah, c'è un H1 che dice così, ci sono tre H2, uno dice così, uno dice così, uno dice così, e tu, utente che usi uno screen reader, puoi navigare molto rapidamente nella pagina saltando da una parte all'altra, perché la pagina è scritta bene, se non fosse scritta bene sarebbe un muro di testo, magari o di contenuti testuali, anche di immagini, che però magari non vedi, perché dato che scrivo la pagina male non metto neanche il contenuto testuale alternativo all'immagine, tutto con un testo che tu, sviluppatore, definisci come testo di uguale importanza, che però in verità non è. Adesso, molto rapidamente. L'utilizzo dei taccionati c'è finalizzato a... Sì. Per esempio, ci sono due tag che sono proprio i tag più insipidi della storia dell'HTML, che sono div e span. Div e span sono dei tag che semanticamente non hanno alcun tipo di significato, hanno semplicemente una caratteristica... di realizzare del testo, di delimitare del contenuto. Sì, e poi proprio, diciamo, rispetto alla visualizzazione hanno un comportamento diverso, perché uno è, diciamo, un elemento in line, l'altro blocco, esatto. Però semanticamente non vogliono dire nulla. Io posso anche scrivere interamente la pagina con dei div, con degli span, però ma non sto dando significato al contenuto. Va bene. Sì, sì. Scusami, questi tag di semantici sono importanti, sono importanti in tutte le pagine di HTML, in tutte le pagine, oppure ci sono, ad esempio, non so, un sito, una web application, dove c'è del data-end. Ma, insomma, in generale, nel momento in cui c'è di mezzo dell'HTML, è opportuno scriverlo bene. Cioè, in generale. Poi dipende sempre da... da l'utenza che ci si aspetta di avere, o, se vogliamo essere proprio... proprio venali, anche dal business, o meglio, da... anche da un aspetto di... come dire... di fetta di mercato che ci si vuole aggiudicare, ecco. Cioè, sembra una sciocchezza, ma se proprio abbiamo un cuore di ghiaccio e non ce ne importa niente di qualsiasi tipo di disabilità e persone con determinate disabilità, è anche opportuno ricordare che comunque un 15-20% di utenti che utilizzano servizi web soffrono di qualche tipo di disabilità. Cioè, magari abbiamo, non so, un 3% di non vedenti, non lo so, però magari c'è un altro 3% che anche lui usa lo screen reader perché soffre di disturbi specifici dell'apprendimento e poi c'è un altro che invece ha disturbi cognitivi e quindi faccio un'interfaccia orrenda o creo dei contenuti testuali che non hanno molto senso. Quindi, insomma, anche nel momento in cui non si ha molto a cuore insomma, l'esperienza utente del prossimo se si vorrà ragionare anche in termini economici è comunque qualcosa di vantaggioso. Sprecare, sprecare, madonna, che scelte infelice. Spendere del tempo per creare dei contenuti sicuramente è qualcosa che richiede più tempo rispetto allo scrivere una pagina mostrando così dei contenuti ah, beh, c'è. Richiede del tempo. Poi l'esperienza magari riduce questi tempi però comunque, insomma, alla lunga è un qualcosa che paga. Che altro? Comincia ad essersi fatta una certa. Quindi. Sì, sì, sì. Però a me non piacciono. No, beh, non mi piacciono semplicemente adesso magari ve li faccio vedere. Anzi, vi faccio vedere un attimo rapidamente questi strumenti. Vi metto magari qua il link così. Allora, uno si chiama sceglio qua, eh. Web Developer. Allora, uno è questo. Si può installare su Firefox, su Chrome. Io solitamente nel caso uso più Firefox ma comunque uso anche Chrome e insomma, l'ho provato su entrambi funziona funziona correttamente. Magari intanto ve lo scrivo in chat. Con questa ricerca lo trovate subito. questo è uno strumento secondo me a mio avviso carino perché non è troppo invasivo e permette di fare delle cose simpatiche tipo un controllo che magari con strumenti così dedicati è facile fare e che può essere importante è l'ordine dei contenuti della pagina. Vi dicevo, il codice CSS ci può mostrare i contenuti della pagina come vuole. Lo screen reader però per esempio quello che fa è legge i contenuti uno di fila all'altro. Quindi se io con CSS ho messo un contenuto da una parte e l'altro da un'altra però da un punto di vista di codice di come è stato scritto in realtà sono vicini questi vengono letti uno dopo l'altro magari. Questo strumento permette di fare un sacco di robine simpatiche per esempio di circondare con una bordatura con un outline per esempio tutti i titoli tutti i titoli e tutti i titoli quindi dicevamo quei tag H numerino quindi io premo qua e lui visivamente mi mostra che qua c'è un titolo qua c'è un altro qua c'è un altro ancora qua c'è un altro ancora e così via. Posso per esempio fare un'altra cosa molto molto divertente che è rimuovere tutto il CSS. Il CSS è bugiardo il CSS è truffaldino il CSS ti mostra le cose ma in verità non sono così. No, a parte tutto qua ho disabilitato tutto il CSS questo è il contenuto della pagina per come si mostra senza alcuna regola di stile e un test che si può fare è anche disabilitare interamente il CSS e vedere i contenuti semplicemente l'ordine dei contenuti per come sono mostrati cioè a me magari mi va bene di avere all'inizio un paio di link poi dopo ho il logo di V3C ho il bottone del menu e vabbè ci sta dopo una serie di immagini a una certa poi arriva anche il contenuto questa pagina adesso non mi sono messo a controllare nel dettaglio però insomma considerato che è una pagina di UI auspicabilmente è ben fatta insomma mi sembra così a pelle che comunque si è strutturata dignitosamente ecco cioè quanto meno può essere molto divertente anche perché adesso tornerei un attimo invece alla pagina precedente perché nella fattispecie vorrei andare a questa perché permette di semplicemente diciamo spuntando un'opzione di controllare i contenuti testuali delle immagini una parentesi davvero molto significativa dell'accessibilità web è come si mostrano o meglio come si veicolano determinati messaggi che io magari creatore di contenuti decido di esprimere attraverso un'immagine a una persona non vedente e c'è un capitolo sconfinato di di come si gestiscono le immagini perché le immagini parlavamo di tag html il tag html che identifica l'immagine è un tag img vi faccio vedere un attimo rapidamente questi tag hanno hanno quelli che si chiamano degli attributi ok in verità questo qua non è significativo perché vediamo tipo qua hanno degli attributi un attributo è semplicemente una chiave una parola chiave tra virgolette che sta all'interno di un tag per esempio questo è un attributo del tag td questo è un attributo del tag background e così via esiste l'attributo alt delle immagini che è un attributo nel quale gli autori devono scrivere quello che l'immagine rappresenta è un tema un po' controverso perché anche contestualmente al messaggio che si vuole veicolare e così via ci si possono scrivere cioè si può sbagliare molto facilmente intanto sfato una menzogna che gira da anni non è obbligatorio che l'attributo alt sia popolato cioè che abbia un valore può anche esserci un'immagine con l'attributo alt con semplicemente le due virgolette e nessun contenuto testuale perché magari quell'immagine non vuole veicolare nessun messaggio perché magari quell'immagine è esclusivamente decorativa l'immagine non aggiunge niente al contenuto della pagina e quindi io quello che faccio è dico l'attributo alt non ha niente perché anche uno con lo screen reader che arriva lì non gli importa lo screen reader ignora quell'immagine perché è giusto che sia così perché comunque non veicola nessun messaggio contestualmente ha quello che comunque bisogna magari indicare nell'immagine è opportuno ricordare che il contenuto non deve essere troppo lungo bisogna magari aggiungere una breve descrizione di quella che è l'immagine soprattutto del messaggio appunto che vuole veicolare mi ricordo come siamo arrivati al discorso delle immagini ah sì perché perché per esempio questo strumento qua vi permette di di images di ok io lo riselezionerei io ci volevo credere allora che cosa ho fatto ho diciamo reso le immagini invisibili e ho selezionato il mostra l'attributo alt che sta per alternativo no cioè si parla solitamente di alt text cioè testo alternativo quindi mostra l'attributo alt con il valore che gli è stato assegnato quindi per esempio nella prima immagine qua che cosa c'è scritto l'immagine è questa city lights your access to the city se io tolgo l'immagine vabbè possiamo anche lasciarle in verità c'è questa lunga spiegazione di cioè dettagliata di quello che è log e dice ah allora c'è un pallino rosso con una lettera c che che simboleggia simboleggia una luna crescente come il sole questo logo eh si infatti allora questo per esempio è un 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 testo alternativo stupido cioè un testo alternativo che no è legittimo per esempio dire anche per esempio sostituire magari quello che è il logo intanto è legittimo anche dire logo di city lights questo è qualcosa di legittimo è legittimo anche dire per esempio ehm ehm anche qua usare magari la stessa dicitura che si usata per il titolo welcome to city lights cioè ci deve essere un messaggio di qualche tipo non me ne frega niente del come è fatto il logo cioè chi se ne frega poi ovviamente contestualmente a dove ci si trova cioè se io devo non so mh piccola chiosa mh tempo fa mi è capitato di sviluppare un sito web per una una fotografa ehm dato che insomma diciamo magari non c'era stata una comunicazione chiara su alcuni contenuti che mi doveva fornire le foto sicuramente però anche cioè io mi sentivi in colpo onestamente lasciare tutte le immagini senza il un testo alternativo quindi mi sono messo lì e ho scritto per ciascuno di questi una breve descrizione brevissima perché erano tipo non so un 160 foto molto breve però appunto contestualmente a dove ci si trova se il sito web è quello magari di un artista allora magari ci sta che ci sia un'indicazione dettagliata di quello che vuole trasmettere l'artista che cosa rappresenta l'immagine come sono stati veicolati determinati messaggi però se è il sito magari di informazioni e così via non mi importa di sapere nel dettaglio come ha fatto sto logo insomma comunque allora abbiamo fatto una certa cioè sulle otto e mezza quindi vi direi che insomma se avete domande intanto anche da casa o anche qua in presenza chiedo io dimmi l'art tag quindi diciamo che descrivo diciamo il senso di quelle immagini lì quindi logo del sito si o la frase che vuole poi trasmettere per esempio siti like o sassi o siti uno capisce allora giusto così ieri in vista di questo incontro ho detto aspetta mi ricordavo che il sito del lancia faceva abbastanza scarezzo per quello che riguardava la navigabilità da tastiera tra le altre cose ho detto ah dai mi guardo anche gli alt text e per esempio ho trovato degli alt text abbastanza secondo me sensati tipo tipo non lo so vediamo questo qua dipende sempre molto dal contesto cioè non deve essere necessariamente una descrizione di quello che c'è perché magari l'immagine tu la metti lì per un altro scopo cioè non per dire boh non so qua abbiamo da bolletta il codice appalti magari non mi interessa foto dei ministri con con le figie mi viene da dire come cazzo sì cioè o magari tipo non so rassegna stampa come si chiama scusa non so i ministri chiamano i giornalisti dicono facciamo una conferenza stampa tipo non so conferenza stampa o che ne so cioè se ti sembra significativo cioè lista anche molto a l'autore dei contenuti dire qual è il messaggio che voglio trasmettere cioè la conferenza stampa sì 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 per esempio ecco foto non si fa foto cioè non si mette tipo immagine che rappresenta foto di no quello non si scrive conferenza stampa conferenza stampa con dei ministri quello che ti volevo chiedere io ho un sito dove praticamente la pagina degli articoli l'ho fatto un po' in stile medium diciamo che ha quelle enormi immagini iniziali che poi sulle dimensioni che abbiamo litigato in grafico non ci siamo mai capiti sta da rivedere e litigato non ci siamo dichiariti e praticamente in molti c'è solamente scritto un testo molto breve anche perché ero di fretta in un caso c'era OCR Outwork proprio c'è una roba proprio a caso o screenshot tipo una roba di genere che non si capisce benissimo però sì a fine mia risposta dipende molto dal contesto deve essere uno che arriva deve capire un attimo di cosa si tratta cioè ci sta anche al di fuori della foto squisitamente decorativa ma ci sta anche il fatto di non mettere magari di assegnare un attributo cioè un valore all'attributo alt se magari l'immagine non aggiunge nulla in più rispetto a quello che magari hai già scritto cioè se l'immagine è lì per fini grafici di aspetto della pagina e basta può essere anche magari un'immagine significativa perché dice non so parlo di di pasta di pasta alla carbonara e filosofeggio sulla pasta alla carbonara per una pagina intera poi dopo c'è un'immagine della foto della pasta alla carbonara poi è che non metterlo io su sito c'è una cornice praticamente c'è un'immagine che fa la cornice tra una sezione no niente bu no 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 legittimo comunque esatto bravissimo cioè legittimo assolutamente anzi consigliabile in quel caso dire vabbè non uso il tag img uso una background image e boh non so comunque qua secondo me ci sono tendenzialmente i 10 xbr vabbè insomma ci sono comunque diciamo test alternativi sensati non da strapparsi i capelli però insomma parte sempre questo anser comunque sì che altro vai insomma mi dispiace siamo arrivati un po' lunghi magari non abbiamo non abbiamo controllato alcuni aspetti dell'accessibilità che appunto era magari le immagini più nel dettaglio l'interazione l'abbiamo un po' vista e e che altro e sì per esempio anche i contrasti del testo l'utilizzo degli heading e il fatto di aumentare per esempio le dimensioni dei font cioè se io aumento le dimensioni dei font e perdo dei contenuti allora devo scrivere il codice in maniera diversa lo zoom della pagina deve poter arrivare fino al 250% senza perdere dei contenuti e quello tante volte dici no a proposito insomma ne sono dimenticato di dirlo si parla tanto nello sviluppo web di responsività e di mobile first cioè di sviluppare prima con l'idea del mostrarlo sul dispositivo mobile e poi dopo sul desktop sul laptop o che cosa il concetto stesso di accessibilità riguarda anche l'accesso da dispositivi che non siano al desktop per i motivi più disparati anche semplicemente perché se io voglio fare un sito davvero molto accessibile allora quello che faccio è fornisco cioè passo solo i dati assolutamente indispensabili per mostrare i contenuti perché magari per facilitare l'accesso a persone che magari non hanno un wifi o non hanno band o non hanno tutto questo genere di cose sono infinite considerazioni da fare sui file multimediali sono un sacco di roba insomma quindi noi abbiamo giusto grattato la superficie di quello che è l'accessibilità del web insomma se avete delle altre domande siete benvenuti sì in verità secondo me ce l'aveva anche cromo chromium poi l'ho persa l'ho rimossa non lo so però firefox ce l'ha e ti permette di controllare il contrasto del testo l'attributo role si chiama cioè si chiamano landmark che sono tag particolari con una semantica particolare della pagina ti permette di controllare una serie di cose per esempio io per quello che riguarda il contrasto del testo sullo sfondo che appunto deve rispondere a determinati criteri solitamente uso firefox perché comunque fa un po' calcolo sì 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 no assolutamente se per caso vi capita di far analizzare il vostro codice html da v3c validator che insomma strumento sacro per tanti versi però vi dice una cosa che secondo me è un po' inesattezza cioè vi dice ah se metti l'attributo roll vabbè però in realtà non abbiamo parlato quindi no non ve lo dico non ve lo spoiler niente vabbè niente insomma se avete se avete delle domande benvenuti se no direi che possiamo chiudere qua anche da caso ovviamente se avete delle domande oltre ai siti della pubblica amministrazione sì allora di rendere le pagine accessibili allora a me la legge è piuttosto oscura però so che pubblica amministrazione dal 2022 a giù di lì dovevano avere tutti i siti accessibili a livello vcag 2.1 o 2.0 non ricordo una cosa di questo tipo secondo me privati ancora non è obbligatorio ma sarà obbligatorio dal 2024 2025 cioè è un qualcosa che dovrebbe essere abbastanza prossimo poi chissà magari legiferano in modo tale per cui verrà posticipato e poi e mi chiedo anche quanti controlli poi faranno però vabbè insomma comunque teoricamente da quello che sapevo dovrebbe essere qualcosa di abbastanza prossimo ecco va bene niente è stato bello spero che vi sia vi sia piaciuto vi sia interessato e niente insomma alla prossima grazie anche a voi che avete seguito da casa grazie mille e insomma alla prossima grazie a tutti grazie a tutti